L'alluminio, appunto, con silica, con silice, esatto, l'importante prodotto viene dalla Russia, costa poco, e cioè, e si chiama appunto questo prodotto Enteroskel. Sì, silice o acido silicico. Chi di voi viene dalla Russia? Ecco, un cucchiaino, tre volte al giorno, fra i pasti. E quando si è saputo, appunto, che in questo modo, appunto, possiamo togliere l'alluminio dal cervello, negli Stati Uniti è stato immediatamente vietato. E c'è una ragione per cui Edward Snowden si è andato in Russia. Ecco, in questo momento molti sperano nella Russia che la Russia, appunto, possa assumere un ruolo di leader per una vera idea di libertà. Non per la pseudo-libertà, appunto, che ci troviamo nell'Occidente, ma in una simulazione. Vorrei molto brevemente trattare un tema fine e poi fare qualcosa che sia, appunto, di salubre e di salutare. Chi di voi viene dal Messico? La migliore ricerca sulla contaminazione ambientale viene da una dottoressa messicana e questa immagine contiene tutto quello che è necessario sapere. Cioè, lei ha dato una scuola fuori dalla città del Messico e questa è una zona rurale e dove gli agricoltori avevano venduto la terra alla stessa azienda americana, appunto, che produce, appunto, quello spray, appunto, dell'inquinante contaminante dell'aria. E questa azienda lì irrora tutti i campi di mais con il loro prodotto, con il prodotto che qui posso indicare che è glifosato. Il nome commerciale è Roundup, che viene anche in Italia usato come diserbante, anzi molto usato come diserbante, con lo stesso nome, tra l'altro, anche in Italia. E poi ha confrontato questa scuola con un'altra scuola, in un'area rurale, appunto, dove gli agricoltori hanno fatto resistenza e non hanno permesso che i loro campi fossero irrorati con prodotti chimici. E dalla parte sinistra vedete, appunto, un'immagine disegnata da una bambina di quattro anni della zona sana. E a fianco è il disegno, appunto, di una persona fatta da una bambina della scuola nella zona in cui si faceva l'irrorazione di questo prodotto. Io non conosco nessuno studio che evidenzi maggiormente che cosa è successo al cervello. Nella parte destra, appunto, la stessa scuola. Questi sono i ragazzi, cinque anni, l'immagine, il disegno a sinistra, la zona sana, sulla parte destra, appunto, nella zona in cui c'è questa irrorazione chimica. Si potrebbe simbolicamente interpretare questa immagine sulla destra. Si potrebbe vederci uno spermatozoo morente. Qui qualcuno all'università, appunto, ha analizzato le ragioni note, appunto, dell'autismo. Di questo grande aumento dell'autismo. E questi sono ritardanti alla propagazione di fiamma. E c'è, appunto, l'alluminio e questo erbicida. Il glifosfato, o glifosaf, il round-up famoso. Sono sempre le stesse sostanze. Io vedo un'altra bella ricerca qui, anche io ho partecipato. E questo è, di nuovo, uno studio su glifosfosate, che, appunto, indica che il glifosato, appunto, distrugge tutto quello che c'è di sano in noi, in pratica. Un'altra volta, appunto, questo nesso, questo effetto combinato glifosato e alluminio, hanno questa sinergia magica, per così dire. E sono la vera ragione di depressioni, di demenza, di morbo di Parkinson e di, appunto, di ansie. E, naturalmente, dell'autismo. Beh, se uno fosse cattivo, appunto, se voglio veramente mettere in ginocchio l'umanità, allora, quello che farei è irrorare su tutto il vostro alimentazione il glifosato. E contaminerei l'aria con l'alluminio. E se non basta, aggiungerei un po' di alluminio anche ai vaccini. Ecco, in questo modo ce la farò anche, a mettere in crisi, appunto, le vostre funzioni cerebrali e, dopo due, tre generazioni, portarvi all'estinzione. Ma quello che mi serve ancora sono determinate frequenze elettromagnetiche, anche. E ne ho bisogno, appunto, per fermare i vostri enzimi, che svolgerebbero la decontaminazione. Proprio queste frequenze ci arrivano attraverso i cellulari. Beh, dietro il tutto ci deve essere un gruppo intelligente di scienziati cattivi. E di politici, anche. Ma poiché non lo sono, poiché non sono cattivo, immagino che si tratta di casualità. Come fanno la ricerca gli americani? Adesso devo anche dire che io vivo negli Stati Uniti. e il 99,99% degli americani sono persone fantastiche, ma sono molto facilmente sfruttati anche. Sì, forse la popolazione, appunto, la popolazione più sfruttata, di cui si abusa maggiormente, sono gli americani. Dove, ecco, poche aziende sperimentano sugli stessi connazionali, sugli americani stessi. E i politici sono pagati per star zitti. Ma adesso voglio farvi vedere una ricerca molto bella in cui gli americani hanno fatto degli esperimenti, non sulla propria popolazione, ma conosciamo appunto quello che sta alla base. Il background, appunto, due politici appunto nell'Equador sono stati pagati. pochi soldi, tutto sommato, e hanno permesso che dei quartieri interi, appunto, delle città fossero irrorate con questa sostanza. E poi si prelevavano dei campioni, appunto, della popolazione. Per vedere, appunto, se fosse possibile causare dei danni genetici permanenti. E la risposta è stata sì. E il passo successivo, negli Stati Uniti, sopra delle città più grandi, delle metropoli, appunto, abbiamo trovato delle prove biochimiche che a questa miscela, appunto, che viene irrorata, che appunto ci fosse anche glifosate. Quindi, piccola sperimentazione in Ecuador, l'applicazione sulla propria gente negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi hanno la maggiore percentuale mondiale di patologie neurologiche. Qui, brevemente, i sintomi, appunto, causati da questa sostanza, da questo erbicida, quindi ipertensione, ictus, diabete, sovrappeso, colesterolo.